Palestra Liceo Scientifico Filolao di Corotone, in corso il doppio tra la scuola media di Isola e la scuola media di Scandale. In campo per Scandale Antonio Rizzuto e Esposito, cioè Raimondo. Quanto siete? Il punteggio in questo momento è 7 a 6 per la scuola di Isola. 8 a 6. 8 a 7. 8 a 7. Per l'ora, eravate voi prima, no? 9 a 7 per la scuola di Isola. 9 a 7 per la scuola di Isola. 10 a 7. No. 1 a 0. Bravi comunque, dai, bravi. Primo set a vantaggio della scuola di Isola. 9 a 7. 2 a 0. 2 a 0 per Isola. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. No, e non puoi chiudere questo. 3 a 1. Vabbè, dai, bravi, dai. Calmi. 3 a 1. 3 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Aia, per quanto. 5 a 1. 6 a 1. 6 a 1. 6 a 3. 7 a 3. Dai, provate a vincere un 7. Dai. Bravo, dai. 7 a 4. Dai che si prende. Stava parlando, però. 8 a 4. Dai, però. Mamma, che cu... 9 a 5. 9 a 5. 10 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 a 5. Salutate, salutate